Ecco la Caterina che sta andando giù nella cascata di mezzo, è alta un centinaio di metri, guarda che roba, guarda lì quant'è alta, bella, bella, adesso la fermiamo un attimo. Ecco che la Caterina sta andando giù, va dal ponticello, guarda che spettacolo più di cento metri, poi un pezzo rimane là dietro. Ecco le cascate dal ponticello di legno, andiamo verso le cascate, guarda come se ne vedono. L'ultimo pezzetto di video, di quel ponticello.